Ciao, io sono Antonio. Questa settimana, come potete vedere dall'assetto della mia scrivania, si parla di Animali Fantastici, i crimini di Grindelwald. Io non vi avevo ancora dato la mia opinione e quindi adesso che sono passati un po' di giorni dalla mia prima visione del film e adesso che ho potuto ragionare meglio sulla trama e su quello che ho visto, sono pronto a parlarne assieme a voi. Quindi, mi raccomando, superattivi nei commenti. Bene, so già che questo video durerà un sacco, durerà tantissimi minuti, ma cercherò di riassumere nel minor numero di parole possibili i concetti che ho in mente. Vi avviso, il video sarà pieno di spoiler, quindi qualora non aveste visto già il video, mi raccomando, stoppate e poi magari tornate qui sul canale a guardarlo una volta usciti dal cinema. Detto questo, ragazzi, direi che possiamo cominciare. A me è piaciuto questo Animali Fantastici, i crimini di Grindelwald, a distanza di una settimana, devo dire che il film mi è piaciuto. La sua unica pecca, secondo me, è quella della regia. Il film, per rientrare nel minutaggio, passatemi il termine, stabilito da Warner, ha subito una montagna di tagli. Infatti, gli stessi attori hanno dichiarato che tantissime scene che avevano girato non sono poi andate sul grande schermo. E vi dirò che è un vero peccato perché, avendo letto queste scene su carta, erano proprio quelle scene che mancavano e che facevano dare accordo tra una scena e l'altra o che davano delle spiegazioni a cose che abbiamo visto sullo schermo e che non era proprio facilissimo capire senza un'introduzione. Ma, detto ciò, direi di fare una piccola analisi, punto per punto, dell'intero film, cominciando dal principio. Il film si apre con un prologo che, secondo me, è la scena migliore di tutta la pellicola. Mi è piaciuta un sacco, mi è piaciuta l'interpretazione di Johnny Depp nei panni di Grindelwald, del Grindelwald che aveva passato diversi mesi in prigione e mi è piaciuta moltissimo tutta la scena d'azione, è stata davvero fantastica. Da questo punto di vista, David Yates davvero è stato bravissimo. Mi è piaciuta la carrozza, bellissimi Testral e poi, ragazzi, anche il piccolo Antonio, il Chupacabra. Devo dire che mi ha steso, ho riso tantissimo, perché non mi sarei mai aspettato che Antonio potesse essere il nome di una creatura fantastica. Quindi, davvero, questa è stata la ciliegina sulla torta e mi è piaciuta un sacco. Nulla da dire sul prologo. Ma adesso passiamo alla prima nota dolente, che secondo me è quella di Queenie e Jacob. Non mi è piaciuto come hanno introdotto la coppia Queenie-Jacob perché l'abbiamo lasciata alla fine del primo film dentro la panetteria di Jacob, dove c'è stato quel gioco di sguardi e dove si è lasciato intendere che Jacob comunque non fosse stato obbliviato del tutto, ma qui lo troviamo già consapevole di tutto, lo troviamo già che ricorda tutto quello che è accaduto durante il primo film e soprattutto lo troviamo sotto una sorta di incantesimo d'amore e non mi è piaciuto anche il cambio d'umore di carattere così improvviso di Queenie. Avrei preferito sapere cosa ci stava dietro a questo cambiamento d'umore, a questo cambiamento di atteggiamento e poi ragazzi anche la voce, il doppiaggio, nonostante credo sia la stessa doppiatrice, non mi è piaciuto. Una voce troppo stridula, troppo esasperata, troppo da bambina stupida, quindi non mi ha convinto il doppiaggio, magari in lingua originale sarà meglio, però devo dirvi che non mi è proprio piaciuta e mi ha fatto davvero tanto storcere il naso questa cosa e poi anche le motivazioni. Queenie ha stregato Jacob semplicemente perché lui giustamente non voleva sposarla a causa delle limitazioni magiche, delle varie leggi, regole che impediscono il matrimonio tra un babbano e una strega, quindi lui per salvare Queenie dal carcere si oppone a questo matrimonio in attesa di tempi migliori e direi che la cosa ha anche una sua logica. E quindi in conclusione per riassumere devo dire che le dinamiche di coppia tra Queenie e Jacob non mi sono piaciute, secondo me sono state un po' tirate per i capelli, ma detto questo passiamo invece a un'altra coppia che è quella di Newt e Tina. Veniamo a sapere che Tina è incavolata nera con Newt perché ha saputo tramite un giornale che Newt si sarebbe sposato con Lita, cosa che invece non accade perché in realtà è un errore del giornalista che scambia i nomi di Newt e di suo fratello Tisius per non so quale caspita di problema, però tant'è che vengono scambiati questi nomi, Tina lo legge e diciamo che va su tutte le furie e decide di tagliare i ponti con Newt. Anche questa è una motivazione che un po' così ci può stare, però magari un po' di comunicazione in più tra i due non avrebbe guastato, fatto sta che Newt viene a sapere questa cosa, scopre che Tina si trova a Parigi, prende tutti i suoi bagagli, prende la sua valigia e parte per la Francia. Prima però voglio analizzare una cosa, Newt trova dentro casa sua la cartolina di Parigi di Queen, presumo, strappata in mille pezzettini che va a ricomporre con un reparo e quindi scopre questa cosa. Però ragazzi, io non ho capito chi ha lasciato cadere questa cartolina strappata a terra, perché o sono stordito io, ma durante il film non si è visto, non si è vista Queenie strappare la cartolina, non si è visto qualcuno buttare a terra questi pezzi di cartolina, fatto sta che Newt li trova e li ricompone. Ma in ogni caso non credo sia stato un problema di trama o sceneggiatura, ma semplicemente è stato tagliato troppo. E pensate che è stata tagliata anche tutta la scena di presentazione del libro Animali Fantastici di Newt al Ghirigoro. Si era tanto parlato di questa cosa che sarebbe tornata a Diagonalli, saremmo tornati al Ghirigoro e invece niente. Un bel niente. Non si è visto nulla, si è saltato tutto a pieppari e buonanotte ai suonatori. Quindi ragazzi, niente. Niente Ghirigoro, niente Diagonalli, niente di niente. Solo una foto sul giornale. Vabbè, pazienza. Una cosa però che mi è piaciuta moltissimo è stata tutta la parte del piccolo zoo domestico che Newt ha in casa sua. Anche la sua assistente mi è molto piaciuta per quel poco che abbiamo visto, però innamoratissima di Newt. Cerca di fargli togliere la camicia in tutti i modi. È stato un siparetto abbastanza divertente. Molto carini i piccoli snasi. Davvero belli tutti gli animali che abbiamo visto all'interno del suo piccolo zoo, piccolo ospedale domestico. Non so proprio come definirlo. Mi è piaciuto davvero tutto. Anche Loguri, molto bello. Devo dire che il tutto mi ha lasciato molto contento. Peccato per i Mooncalf, che si sono visti davvero poco. Nel primo film, al buio, in questo film, solamente dal collo in su, cosa avete contro sti poveri Mooncalf? Fatemi rivedere per intero. Però, per il resto, tutto molto bello e tutto come immaginavo. Quindi una sorta di estensione della sua varigia. Altra piccola nota di merito, il Kelpie. Mi è piaciuta tantissimo questa scena di Newt che cavalca questo Kelpie dentro questa sorta di lago scozzese. Il Kelpie, si dice, sia il famoso mostro di Loch Ness. Mi sarebbe piaciuto vederlo molto di più per una durata almeno simile a quella che troviamo nel Prigioniero di Azkaban, quando Harry cavalca Fierobecco lungo il Lago Nero. In questo caso, ragazzi, troppo breve, troppo tagliato e ho proprio avuto la sensazione che mancasse qualcosa in quella scena. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Una volta visti i nostri protagonisti, ci spostiamo su Grindelwald. Ragazzi, anch'io ero tra quelli un po' dubbiosi sull'interpretazione di Johnny Depp. Temevo che ricasse troppo il personaggio, credevo fosse troppo Jack Sparrow, ma invece no. Devo dire che è stato davvero molto molto bravo e quel tipo di cattivo che mi piace, non quello che esplode come Voldemort il pazzo furioso, ma è un cattivo più subdolo. È un cattivo che riesce ad affascinare le masse, come hanno detto già tanti altri, e mi piace. Mi piace tantissimo l'interpretazione, è stata molto molto bella e poi mi è piaciuta moltissimo tutta la sequenza di Grindelwald che entra in possesso del suo quartier generale, di questo appartamento a Parigi, facendo uccidere i proprietari e addirittura anche un piccolo bambino. Qui già vediamo le differenze tra Voldemort e Grindelwald, perché la scena era identica a quella che vediamo nei film di Harry Potter col piccolo Harry vicino alla culla che guarda Voldemort, solo che in quel caso Voldemort lancia direttamente la vada che dà avrà su Harry che poi li rimbalzerà indietro, mentre Grindelwald guarda il bambino, esce dalla stanza e lascia fare, se non sbaglio, alla Rosier il lavoro sporco. Fa uccidere a lei il bambino perché vediamo un fascio di luce verde. Mi è piaciuta davvero un sacco tutta questa sequenza carica di pathos, mi ha davvero emozionato, davvero una sequenza molto forte e che non mi aspettavo in un film di Harry Potter o comunque del mondo di Jakey Rowling. Quindi si vede che questo film ha dei toni molto molto più maturi e più e ancora ne mancano tre, quindi chissà cosa vedremo e di cosa sarà capace Grindelwald, anche perché di crimini veri e propri ne abbiamo visti pochi, forse questo è l'unico, ma secondo me questo, i crimini di Grindelwald ci porterà a scoprirne molti altri più avanti in futuro. Ma detto questo ragazzi, adesso ci spostiamo ancora e andiamo ad Hogwarts. Scena bellissima, mi è piaciuta un sacco questa scena di Hogwarts che appare piano piano con il tema di Edwige, quindi ragazzi in questa scena nulla da dire, pelle d'oca alta così, i peli mi si sono drizzati così, davvero bellissima. Un tuffo nel passato, Hogwarts sempre stupenda, mi è piaciuto tutto e un applauso direi a Jude Law perché ha interpretato un giovane silente, secondo me magistrale, davvero bellissimo nelle movenze, come si approcciava con Newt il modo di parlare, sempre quelle sue cose dette e non dette, quegli indizi un po' celati, mi è piaciuto tutto, davvero tutto, soprattutto gli sguardi, anche i primi piani, mi ricordava tantissimo il vecchio silente. Quindi davvero bravo Jude Law, si vede che ha studiato tantissimo il personaggio. Anche in questo caso capiamo che Jude Law, che è silente, sta utilizzando come una marionetta il povero Newt, un po' come ha fatto con Harry Potter, quindi qui nulla di nuovo, una cosa che ci si poteva tranquillamente aspettare. In queste scene che si svolgono a Hogwarts abbiamo anche chiarito un punto che era stato sollevato durante la visione dei primi trailer. Abbiamo visto infatti nei trailer il giovane silente che stava insegnando difesa contro le arti oscure, in quel caso contro un molliccio e tutti hanno storto il naso perché silente non ha mai insegnato secondo il canone difesa contro le arti oscure, ma credo che insegnasse incantesimi. Scusate se mi sto sbagliando, fatemelo sapere nei commenti, però credo fosse incantesimi la sua materia e infatti tutti hanno gridato allo scandalo, no come mai silente sta insegnando difesa contro le arti oscure? Ebbene in questo film è stato tutto chiarito perché vediamo il rappresentante del ministero che mette delle manette magiche a silente e che gli comunica che da quel momento qualsiasi incantesimo lui avesse lanciato sarebbe stato registrato dal ministero e che da quel momento gli era vietato insegnare difesa contro le arti oscure e quindi sicuramente visto questo divieto poi è passato all'insegnamento di incantesimi. Tutto risolto, tutto rimasto all'interno dei canoni. Le uniche due cose che non sono state proprio chiarite è stata la cosa della smaterializzazione e materializzazione ad Hogwarts, visto che vediamo gente che si materializza sul ponte di Hogwarts, ma quello potrebbe essere semplicemente un accorgimento che arriverà in futuro e magari in posto dallo stesso silente. Quindi su questa cosa non sappiamo se la regola già valeva prima di Harry Potter, del periodo storico in cui vive Harry Potter, quindi non sappiamo, questo possiamo farlo passare. E altra cosa che non è stata chiedita è stata la presenza di Minerva McGranit. Non viene esplicitamente detto Minerva, ma nei ricordi viene assolutamente vista una giovane McGranit, perché viene detto professoressa McGranit, le movenze sono quelle, l'attrice è impressionante ragazzi, somiglia tantissimo a Maggie Smith da giovane, potete andare a cercare le immagini anche su Google, quindi direi che quella era a tutti gli effetti Minerva McGranit. Anche in questo caso io mi sento un po' di giustificare la rolling, perché tutti hanno sollevato il caso della data di nascita di Minerva McGranit. Secondo la maggior parte della gente non dovrebbe essere lì, non dovrebbe neanche essere nata. Però noi non sappiamo effettivamente la data di nascita di Minerva McGranit, perché sappiamo da Pottermore che è nata il 4 ottobre e facendo dei calcoli a ritroso, i fan sono arrivati alla conclusione che Minerva McGranit è nata il 4 ottobre 1935 e da cosa è dato questo calcolo? Semplicemente si sa che dopo il diploma ad Hogwarts la McGranit ha lavorato due anni al Ministero della Magia e poi successivamente ha cominciato ad insegnare ad Hogwarts. Quindi si sono fatti questi calcoli e si è raggiunta la data del 1935, ma dando per scontato che la fine della scuola, l'inizio del lavoro al Ministero della Magia e subito dopo l'insegnamento fossero tutti eventi consecutivi, senza nessuna pausa una dopo l'altra. Quindi che dopo il diploma lei abbia cominciato a lavorare al Ministero è una cosa assodata, quindi subito dopo il diploma. Ma che dopo i due anni al Ministero la McGranit abbia cominciato subito a lavorare ad Hogwarts, questo non lo sappiamo. Potrebbero anche essere passati dieci anni nel frattempo. Quindi questo calcolo della data di nascita lascia un po' il tempo che trova. Anch'io ho sempre detto che dopo il diploma ho cominciato l'università o che dopo il diploma mi sono laureato, ma tra il diploma e l'iscrizione all'università io ho lasciato passare tre anni. Ma questa è una cosa che non specifico, ad esempio, se non mi viene chiesto direttamente. Potrebbe essere andata anche così, che non tutti gli eventi fossero consecutivi. Ma detto questo, posso anche aggiungere che in uno dei tre libricini, quelli che troviamo in vendita in formato ebook sulle storie di Hogwarts, dove ci viene raccontata anche tutta la vita di Minerva McGranit senza mai specificare la data di nascita, vediamo che c'è scritto che Minerva McGranit all'epoca dello scontro tra Grindelwald e Silente, lo scontro finale, era già una donna matura. Quindi in questo caso tutto andrebbe a coincidere. Potrebbe davvero essere Minerva McGranit quella che abbiamo visto nel film, nei ricordi di Rita. Ma se così non fosse, ragazzi, chi se ne frega, a me ha fatto ridere tantissimo la presenza di Minerva in quel ricordo. E anche se non fosse canonico, va bene. La Rowling avrà rivisto la data di nascita di Minerva McGranit. Magari adesso verrà confermato che è nata nel 1899, così tutto può quadrare. Non è morto nessuno. La storia canonica non cambia di una virgola, perché l'età della McGranit non ha nessun tipo di ripercussione sulla storia originale. Quindi vabbè, prendiamone atto e buonanotte. Ci sono cose molto più gravi in caso, ma non sicuramente una data di nascita. Quindi per me va benissimo così. Non mi sono scandalizzato più di tanto. Bene, detto questo, adesso vorrei parlare anche di Nagini. Non ne abbiamo parlato. Beh, avevo tantissime aspettative, aspettative altissime su questo personaggio e purtroppo l'abbiamo visto davvero poco. La vediamo subito dentro il circo con Credence. Credence inizialmente sarebbe dovuto arrivare al circo in un secondo momento. Ci sono diverse scene nei trailer e immagini promozionali che lo dimostrano, ma nel film lo troviamo già dentro il circo che ne fa parte. E io non ho capito perché il proprietario del circo voleva impedire a tutti i costi a Credence di stare vicino a Nagini. Questa cosa non ci viene spiegata. Poi successivamente succede tutto quello che succede. Il circo dura siano tre minuti in tutto il film e Nagini e Credence scappano. Non ha quasi parlato per niente. Nagini ha detto davvero poche battute, però è un personaggio che secondo me nasce come positivo e che poi magari cambierà più avanti, anche perché la vediamo alla fine del film assieme a tutta la parte positiva del cast di Animali Fantastici. E quindi ho buone aspettative per il futuro per quanto riguarda Nagini e sicuramente ci spiegheranno tantissime altre cose. Mi è piaciuta molto la spiegazione del proprietario del circo di come è introdotto il personaggio di Nagini. È stato davvero molto chiaro, si è capito tutto alla perfezione. Bellissima anche la trasformazione da donna a serpente, quindi nulla da ridire. Davvero, la parte dedicata alle creature fantastiche, secondo me, totalmente ineccepibile in tutto il film, anche gli effetti visivi. E soprattutto il gattone cinese, ragazzi, mi ha fatto davvero impazzire. Ha fatto ridere tutto il cinema, Newt col sonaglino, davvero bellissimo. Sta per uscire il pop di questo animale che se non sbaglio si chiama Zhu o una cosa del genere, ma non mi ricordo, però è davvero bello anche il pop e spero facciano anche una versione di Newt col sonaglino da mettere vicino, perché è davvero fantastico. Altri due personaggi di cui non abbiamo ancora parlato sono L'Italy Strange e Tseus Scamander. Di Tseus non c'è tantissimo da dire. Secondo me, anche lui, un personaggio che avrà modo di trovare spazio nei prossimi film, si vede che vuole bene a Newt, ma vuole anche tanto bene al suo lavoro. Quindi, diciamo che è un po' combattuto tra questi due aspetti della sua vita, però in ogni caso si vede davvero tanto che vuole bene a Newt. A me ha ricordato il Theo Van Gogh. Theo, il fratello di Vincent, che faceva di tutto per sostenere questo fratello un po' strambo. Non so perché, ma mi hanno ricordato un po' questa dinamica dei fratelli Van Gogh. Ma, invece, parlando di L'Italy Strange, nonostante il suo cognome molto impegnativo, io mi aspettavo un personaggio malevolo, subdolo, invece no. Tutto il contrario, un personaggio molto positivo. Mi sono piaciuti molto i suoi ricordi ad Hogwarts, anche con Giovanni Newt, che è davvero, ragazzi, fantastico. Quell'attore è stato grandissimo. Ha ricreato alla perfezione le movenze di Eddie Redman. Davvero bravissimo, hanno scelto molto molto bene il cast dei giovani attori. E' questa giovane Lita, che io speravo raccontasse il motivo, comunque ci portasse alla luce il motivo dell'espulsione di Newt, ma che anche questa volta non è avvenuto, e quindi magari nel prossimo film. Chi lo sa, incrociamo le dita. Bene, Lita esce di scena davvero in modo molto strano. Muore, praticamente, alla fine del film, tra queste fiamme blu, se non sbaglio tramite anche una vada che d'avra lanciato direttamente da Grindelwald. Però, non lo so, questa morte è un po' insensata, secondo me, questo sacrificio non richiesto quasi da nessuno, praticamente. E' questo ti amo buttato lì in mezzo ai due fratelli, che non sappiamo se è dedicato a Newt o dedicato a Tseus, forse un po' fatto di proposito, secondo me più dedicato a Newt, ma in ogni caso, uscita di scena troppo velocemente, spero che in ogni caso venga ripresa tutta questa questione dell'albero genealogico, o che magari in realtà non sia davvero morta. Vedremo anche questo nei prossimi film, purtroppo abbiamo poco a cui appigliarci. Altro personaggio nuovo in Animali Fantastici, i crimini di Grindelwald, Nicolas Flamel. In questo caso, ragazzi, diciamocelo chiaro, puro fanservice, la sua funzione era quasi nulla. La cosa che più ha tirato l'attenzione di tutti è quella sorta di libro con una fenice sulla copertina e all'interno le foto di tutti questi maghi, dovrebbe esserci anche quella di Silente all'interno, e la strega che ha parlato con Nicolas Flamel è una professoressa di Ilvermorny, quindi della scuola di magia americana. Questa cosa l'ho scoperta in un secondo momento parlando con i ragazzi di Hogwarts Site e loro mi hanno confermato proprio che si trattava di una professoressa di Ilvermorny. Quindi, ragazzi, ne sapremo di più anche su questo libro, che sembrerebbe essere una sorta di Ordine della Fenice primordiale. Quindi, anche qui, tanta carne a fuoco, speriamo di saperne di più. Naturalmente mi è piaciuta molto la chicca della pietra filosofale nascosta nella cassaforte di Nicolas Flamel. Per il resto, il personaggio di per sé non è che avesse questa gran funzione, se non quella di fanservice. Arriviamo così alla parte finale del film, dove troviamo Queenie che passa al lato oscuro, che passa tra le braccia di Grindelwald, cosa che ormai era praticamente scontata, che tutti avevamo dedotto, e le motivazioni possono anche starci, visto che Grindelwald, in ogni caso, riesce ad ammaliare moltissimo, a promettere quello che la gente vuole sentirsi dire. Da questo punto di vista è una sorta di politico molto populista, ma che ha il suo effetto e che tutti, naturalmente, pendono dalle sue labbra, perché sentono sentirsi dire quello che vogliono. Mi è piaciuta tantissimo la scena della Dunanza, dove lui fa il suo comizio, il suo discorso, e, ragazzi, da pelle d'oca, la scena dove vengono mostrate le scene della Seconda Guerra Mondiale, dove troviamo la bomba atomica, i carri armati, e, come tutti gli altri, come in tutte le altre recensioni, ragazzi, anche a me mi avrebbe convinto a passare al lato oscuro, perché se tu mi mostri l'inizio di un altro conflitto mondiale a pochissimi anni dalla fine del primo, anche io sarei passato dalla parte di Grindelwald per impedire ai babbani di avviare una nuova guerra mondiale. Quindi, da questo punto di vista, tutto condivisibilissimo, e mi è piaciuta questa fusione tra storia reale e storia del mondo magico, quindi questa storia inventata. Però, ragazzi, tutto funziona alla perfezione, tranne la cosa del Titanic, perché, ragazzi, non era il Titanic la nave dello scambio dei bambini, che l'ho letta questa cosa tantissimo su internet, ma è stata già largamente smentita, perché le date di nascita di Credence e tutto il resto non coincide nulla, e quindi la storia del Titanic anche no. Ed è così, ragazzi, che arriviamo alla rivelazione finale, al plot twist del film, dove veniamo a sapere che Credence in realtà altri non è che Aurelius Silente, fratello di Albus Silente. Ok, io ve lo dico, non ci credo minimamente, e già ci sono tantissime teorie che girano dietro questa cosa, e si è quasi arrivati ad una conclusione molto molto plausibile, in tanti ci sono già arrivati. Ragazzi, molto probabilmente, non è sicuro, ma molto probabilmente, Grindelwald si riferisce a Credence come fratello di Silente, semplicemente perché al suo interno potrebbe esserci l'Obscurus di Ariana, della sorella di Silente. Perché Newt, già nel primo film, ci spiega che quando un Obscurus si stacca dal suo obscuriale, dal corpo che l'ha ospitato, va alla ricerca di un altro corpo. E Ariana era un Obscurus, aveva un Obscurus dentro di sé, che è fuggito probabilmente dopo la sua morte, e credo che proprio Grindelwald lo stesse cercando. Questo spiegherebbe perché Silente invii Newt negli Stati Uniti proprio a cercare Credence, questo Obscurus, e anche perché Grindelwald ne fosse interessato, proprio perché c'era già stato in contatto, e se ricordate bene, nel primo film, Grindelwald cercava una bambina, perché era convinto che l'Obscurus di Ariana si fosse andato a rintanare dentro un'altra bambina, ma così non è stato, poi ha trovato Credence ed ha capito che al suo interno probabilmente c'è l'Obscurus di Ariana, e quindi proprio per questo ha cercato di imbrogliare Credence dicendo che lui è il fratello di Albus Silente, perché comunque condivide questo Obscurus di sua sorella. Quindi questa è una cosa molto molto plausibile, ma probabilmente anche di questo avremo conferma solamente tra molti anni, quando andremo al cinema a guardare Animali Fantastici 5. Ebbene ragazzi, detto questo, il mio parere su questo film è abbastanza positivo per quanto riguarda la trama e gli effetti visivi, io darei anche un 7 al film, purtroppo la regia è stata davvero devastante, i tagli sono stati troppi, tantissimi, mi ha ricordato molto Harry Potter e l'Ordine della Fenice, ma se è possibile qui hanno fatto davvero molto di peggio. Il film è stato massacrato per rimanere nel minutaggio necessario e spero vivamente che Warner faccia una versione Blu-ray estesa, però spero che non mettano i contenuti speciali a parte, perché mi dà troppo fastidio andarli a guardare singolarmente, spero che inseriscono le scene tagliate all'interno del film e che così il film magari possa durare una ventina di minuti in più e possa magari andare a mettere un po' di pezze in tutti questi salti temporali senza senso. Bene ragazzi, detto questo, io credo di avervi esposto un po' tutti i miei dubbi, tutto quello che mi è venuto in mente durante la visione di questo film e in questi giorni che ho passato a pensarci un po' su. Fatemi sapere voi sotto nei commenti se il film vi è piaciuto, cosa ne pensate delle varie teorie che vi ho portato qui adesso in questa piccola recensione, fatemi sapere tutto quello che vi passa per la testa perché sono davvero molto interessato, avremo ben due anni per ragionare sopra tutta questa roba. Ragazzi, io a questo punto vi ricordo la collaborazione con Pampling, qualora foste interessati col codice sconto 7Potter 15% di sconto su tutto il loro catalogo e naturalmente vi chiedo anche di seguirmi su Instagram perché lì porto contenuti diversi, originali e cose che magari non mostro qui sul canale. Quindi ragazzi, mi raccomando, trovate tutto sotto in infobox, trovate anche una lista di prodotti potteriani, ho aggiunto di recente tantissime cose disponibili su Amazon a prezzi davvero molto vantaggiosi. Bene, adesso lo smetto di annoiarvi e ragazzi vi do appuntamento a prestissimo con tante altre novità. Ciao!